Walter Miciche è stato nominato direttore tecnico regionale del trampolino elastico dalla Federazione Ginnastica d'Italia. Dopo un periodo di ferma, dagli impegni della Federazione di Ginnastica Italiana, Miciche ha una visione per il futuro del trampolino elastico regionale molto chiara, elevare il livello di competenza tecnica e promuovere lo spirito sportivo tra i giovani talenti. È una nuova avventura che prendo e accetto volentieri, sperando di non deludere tutti quelli che mi hanno contattato dal direttore nazionale del trampolino elastico, alla referente nazionale, alla nostra Presidente del Comitato regionale Sicilia, i quali pensano che posso essere la persona giusta per dare un input in più in questa regione Sicilia. L'obiettivo è quello di far presentare subito i programmi in regione, di fatto già indetto una riunione o ellane con tutti i tecnici regionali della Sicilia, in modo che gli rappresento la programmazione che c'è da fare e perché no, uno degli obiettivi che mi sono già subito posto è quello di fare entro il mese di giugno la prima gara regionale. Il suo incarico arriva in un momento cruciale, con la Sicilia che si prepara ad ospitare eventi nazionali significativi e a rafforzare la sua presenza nel panorama ginnico-italiano. Miciche è determinato a sviluppare programmi che non solo formino atleti di alto livello, ma che incoraggino anche la partecipazione e l'amore per lo sport. Questo permetterà un po' a tutti di avvicinarsi a questa sezione, di sperimentarla, perché in genere uno non si avvicina quando le cose non le conosce, ma probabilmente dopo la riunione spero di accattivare la simpatia di molti atleti e di suscitare quella curiosità in tutti i tecnici per poter ovviamente mettersi al lavoro su questi programmi. La comunità ginnica ha accolto con entusiasmo la notizia fiduciosa che sotto la guida del professore Miciche il trampolino elastico in Sicilia raggiungerà nuove vette di successo e riconoscimento. Tre quadrienni olimpici, circa un 12 anni, sono stato direttore tecnico della ginnastica per tutti, sempre della federazione ginnastica, e adesso dopo una piccola pausa ritorno come direttore del trampolino elastico. Speriamo di fare un buon lavoro. Il mio direttore tecnico si è messo subito al lavoro predisponendo un incontro online con tutti i tecnici siciliani per spiegare loro i programmi e invitarli alla partecipazione di una gara regionale per il mese di giugno. Questo, come annuncia Miciche, è solo il primo step. Ha infatti già calendarizzato diversi incontri con i tecnici siciliani. La sezione trampolino prevede tre discipline che sono un mini trampolino, un tumbling e il trampolino elastico, vero e proprio. Noi cominceremo anche con persone che in palestra non hanno il trampolino. In questo modo è un modo per poterli avvicinare a questa sezione. Quindi faremo gare di mini trampolino e di tumbling. Ovviamente con l'obiettivo finale poi di aggiungere anche il trampolino. Però questo modo per iniziare è far divertire un po' tutti perché abbiamo visto in palestra che la ginnasta e il ginnasta si diverte tantissimo facendo questa parte acrobatica sul mini trampo e sul tumbling. Grazie a tutti.